Ciao a tutti. Augusto Girón. Il rapimento. Questo è stato il nostro tema e con questo piccolo video finirò di farvi vedere queste sette occasioni che noi troviamo la parola Harpaso, la greca parola Harpaso, in il Nuovo Testamento. Oggi abbiamo quattro versi in Giovanni, il Vangelo di Giovanni. Il primo è quella storia dove la gente voleva rapire a Gesù per farlo re, ma lui sapendo questo si è andato via. Interessante e molto similare all'istoria di Paolo nel video, nel primo video. Il secondo testo che noi abbiamo oggi è quello che troviamo quando si parla che Gesù è il buon pastore, ma il lupo viene contro le pecore e le rapisce e le porta via. In Giovanni 10, 28 e 29 abbiamo che Gesù ci parla riguardo a che se qualche persona viene a lui, nessuno lo può portare via della sua mano e questa persona ugualmente parla che nessuno lo può portare via della mano del padre. Quando era piccolo c'era un programma in televisione che si chiamava Kung Fu Fighting, David Carradine si chiamava e lui era un americano cinese che imparava il Kung Fu e suo maestro, un cinese, aveva in sua mano un insecto, una langosta e lui le chiedeva di portarlo via, se poteva farlo. Se noi vediamo veramente, in questi sette versetti, il rapimento è un evento con forza, c'è una confrontazione. La cosa interessante è che se voi vedete questi sette versetti, troverete che quattro occasioni si parla riguardo al reino di Dio. E tre occasioni di queste sette si parla riguardo al nostro nemico, il lupo, quello che porta via tutto di noi. Ora, una cosa importante è che il reino di Dio è superiore a quello di Satana. Noi possiamo legare, se vi ricordate la settimana scorsa che abbiamo parlato, che noi possiamo legare all'uomo forte. Noi abbiamo dominio sopra il reino di Satana. Ora, se noi ritorniamo a questa idea di Harpaso e lasciamo questi sette versi qua, vi racconto che la prossima volta vi faccio vedere come Paolo lo usa tre volte e l'ultimo video ci parlerò in Giuda e anche nel libro di Apocalipsis, la profezia di Giovanni, dove si usa una volta. Quello è molto interessante. Vi raccomando di essere con me in questi giorni e così noi finiremo a queste quattordici volte che si usa la parola Harpaso, il rapimento, nel Nuovo Testamento. Grazie.